buongiorno ragazzi buongiorno a tutti per chi volesse sostenere il canale lo può fare gratis iscrivendosi è importante iscriversi al canale iscrizione gratis e campanellina e quello dello scantinato sono io questo è il mio scantinato io lo scantinato me lo sono comprato senza chiedere soldi a nessuno me lo sono comprato con i soldi miei andando al lavoro e fortunatamente sono riuscito a comprarmi non solo lo scantinato ma anche altre cose sempre con i soldi miei non chiedendo soldi ai tifosi dell'inter per dire bagianate e pioggia di milioni dalla cina quando poi la pioggia di milioni la vedeva solo il reverendo nella messa mattutina dei 30 minuti o tutte balogun fatta fascicolo turam chiuso va al milan e poi te lo vedi all'inter lucaco infiammazione poi sta fermo sei mesi io l'ho scantinato me lo sono comprato con con i miei soldi lo vedevi che era lì che festeggiava e esultava e voleva fare la chiavetta con pinco dove è pinco il tuo scoop mondiale di pinco dove è finito e la glass trust cioè tu stai parlando nella tua messa mattutina dei 30 minuti stai parlando della glass trust che ti avevano detto che non esisteva non cancellarli video lasciarli tutti lì a parte che l'ho registrati tutti la glass trust secondo te non esisteva e ora parli della glass trust cioè nemmeno più il cane ti darrete ormai non sei più credibile nemmeno davanti al cane ma di cosa stai ragionando e te lo ripeto il mio scantinato è stato acquistato con il mio sudore non chiedendo soldi a tifosi dell'inter per prenderli per il culo tra l'altro io vorrei capire quella gente che ancora ti dà i soldi o che si abbona cioè non cioè erano come quelli lì che perditi davano i soldi a vannamarchi con le dovute differenze ovviamente ci mancherebbe senza offesa ma sapendo che davano dei soldi a delle persone che non dovevano dare ma continuavano a dare soldi a vannamarchi cioè qui c'è lo stesso discorso perché ancora cioè a parte che non hai capito nemmeno cos'è te la glass trust perché per te non esisteva nemmeno perché almeno quando si chiedono gli abbonamenti e i soldi ai tifosi dell'inter scarichiamoci delle visure camerali perché la glass trust veniva fuori da una visura da una semplice visura camerale la glass trust a differenza di quello che avete sempre detto voi ed è venuto fuori anche che addirittura era incaricato dalle parti dal creditore dal debitore e dall'eventuale nuovo compratore promissario acquirente chiamano metipati di effettuare l'acquilizia quindi non è un security agent glass trust è un organo terzo inserito per garantire il prestito da un terzo soggetto o tri zanni con il compito di sorveglia di sorveglianza sulla gestione del club in modo che non si svalutasse stanno venendo fuori tutte queste cose qui ma abbiamo anche detto e bisogna aspettare bene per capire la funzione della glass trust perché bisogna aspettare ancora per capire bene la funzione di glass trust te lo dico subito perché bisogna aspettare ancora un po' perché come dice eh il buon effenberg appena saranno disponibili le visure e la scomparsa dei pegni eh faremo una live per chiarire eh me lo dice effenberg il vero ruolo della glass trust cosa che voi non avete ancora capito che voi vi siete limitati a leggere security agent non è solo un security agent faranno una perizia quindi eh è incaricato è un agente di garanzia quindi non è solo un security agent non è solo un security agent ora a parte questo eh sul discorso di optree optree è un fondo speculativo a cui non interessa minimamente la gestione dell'inter si è ritrovato questo asset che non toccherà che non svaluterà e che rimetterà il prima possibile quindi eh io penso che nel giro di qualche mese l'inter possa passare eh di mano come non penso grandi scossori né in positivo né in negativo anche se c'è Lautaro Martinez che da un lato eh è capibile chiede tantissimi soldi ma all'inter e in serie a tutti quei soldi Lautaro Martinez non li può chiedere quindi eh c'è l'ultima partita c'è il discorso ora del mercato eh secondo me verrà fatto un mercato oculato si parla di Pinamonti Pinamonti io l'ho visto a Brunico Brunico non so come si dice ero in ritiro anch'io dal lì c'ho le foto qua dietro ehm era un ragazzino giovane giocava con personalità c'era Spalletti mi ricordo mi è sempre piaciuto è un attaccante forte ma deve imparare ad attaccare lateralmente lui lui attacca solo centralmente la porta mentre anche se incomincia avere venticinque ventisei lui dovrebbe imparare ad attaccare la porta lateralmente eh ed è quello che secondo me eh dovrà fare il prima possibile per diventare un attaccante forte un attaccante completo visto che lui si sente tranquillamente eh un attaccante da nazionale eh quindi eh si parla di Pinamonti si parla di eh si parla di Gudmundson ve l'ho detto Gudmundson secondo me è il calciatore che manca all'Inter perché all'Inter manca un giocatore fantasioso un giocatore forte tecnicamente che salti nuovo punizioni assist veramente fortissimo Gudmundson io lo vorrei all'Inter subito e e per il resto ragazzi poi eh l'Inter a livello economico torna stabile ci sono gli altri che ci attaccano l'Inter sta per fallire l'Inter con Opti non fallirà mai l'Inter se rischiava di fallire rischiava di fallire prima non certo oggi con questo eh vi saluto magari ci sentiamo più tardi ciao Inter Grazie a tutti